Ciao a tutti ragazzi, in questo unissimo video qua è Rosso Sangue e quest'oggi parleremo come i vecchi tempi anche se non sono passati venti secoli, anche perché siamo nel ventunesimo secolo, però vabbè vi volevo dire che non ho fatto più video dove si vedeva la mia faccia perché cioè mi stava piacendo fare i giochi e vedevo che a voi piaceva molto, soprattutto il primo video che ho fatto su Call of Duty che ha fatto un bel risultato, cioè in un giorno io ero soddisfatto anche su Anto e Manfri, anzi su Anto e Manfri di più perché ho avuto 63 visual, abbiamo avuto 63 visual, su Anto e Manfri mi sono sempre fatto vedere ma siccome qua su Rosso Sangue stavo continuando a portare giochi e ne porterò ancora altri anzi consigliatemeli, consigliatemene altri qui sotto i link in descrizione che vi possono piacere io li valuterò, cioè ovviamente che valuterò ogni commento vostro anzi chi commenterà di più qua sotto lo saluterò in un prossimo video quindi commentate qui sotto più non posso e niente, questo video aggiornamento non mi ero fatto vedere per questo anzi dopo questo video usciranno altri 4 si, quanto erano? 1, 2, 3, 4 video dove mi vedo ovviamente io e parlo così perché devo, cioè dopo questo video uscirà dopo questo video uscirà dopo questo video uscirà Palermo Reaction Palermo Reaction Voti Reaction Voti Mila Classifica Serie A e Classifica Marcatori come i vecchi tempi ragazzi niente questo video recap, aggiornamento tutto quello che volete è finito iscrivetevi, lasciate like e niente bello